Io sono Matera Giovanni, ho avuto per anni quasi cinque, sei problemi con i denti, una piorrea forte non diagnosticata a modo, mi ha distrutto l'osso dell'arcata superiore in una maniera molto immasiva e su Facebook ho trovato questo dottor Palmas. Praticamente mi hanno messo sei perni sotto, sei perni sopra. Sono stato un giorno senza niente in bocca, hanno fatto l'impianto osseo dopo sei mesi. A giugno dell'anno scorso sono giornato e mi hanno messo l'ultimo perno, tirando, stringendo i denti perché ora li posso stringere, è finita. E poi ci vediamo tra sei mesi per un controllo. Io spero che vada tutto bene, ma credo di sì e sono super contento. Ringrazio tutti quanti per la loro disponibilità, per la loro professionalità. Un dottore che ti apre la porta o che lavora due ore in più la sera per accontentarti, penso che in Italia non si trova. Sono rimasti tutti molto positivamente impressionati. Beh, diciamo il sorriso è una presentazione. Avendo un sorriso bello ti presenti a una persona che non ti conosce in un modo molto diverso. Naturalmente è un bigliettino da visita il sorriso. La persona, la prima cosa che guarda è il volto di un'altra persona. Avendo un sorriso bello di conseguenza si dà un'immagine di se stessa molto migliore. Io, a parte il sorriso che è importante, ma la cosa principale per me è stata il fatto di avere un alito pulito, di poter avvicinare una persona senza... Quella è la cosa, perché l'estetica sì, ma la salute è prioritaria, secondo me.